Ma come state facendo queste femmine? Che è successo? Niente meno uno fa tanto per sparare una lingua e che lo viettano così come niente cosa. Ah non si sa, è sempre così. Sapete che ha fatto? Ma chi vostra moglie? Si. Che ha fatto? E' giusto un macellaio, ha cattato 20 kg di carne e non teniamo neanche un congelatore a casa. Beh certo è scemo veramente, non puoi prendere la colla. Ma il migliore è peggio ancora! Perché che ha fatto? Pensate mia moglie mi aveva due mesi villeggiature da sola perché io rimango qua. Siamo portati 50 preservativi.